L'Istituto Tecnico di Vini di San Severino Mar, che anche quest'anno ha deciso di partecipare all'iniziativa nazionale di promozione del software Linux. Ne parliamo con Fabio Carletti, referente delle Camelughe di Camerino, che ha partecipato anche come relatore a questa giornata. Come ogni anno siamo venuti qui a Lides San Severino, invitati da professoressa Lidia Papavero, per divulgare questo sistema operativo Linux anche ai ragazzi più giovani. Il Camelug sta per Camerino Linux User Group, un gruppo, un'associazione che è nata all'interno dell'università e che unisce diversi ex studenti dell'università di Camerino con questa passione comune che è l'open source, l'informatica e il mondo Linux. Siamo qua come ogni anno, ormai da 4-5 anni, che veniamo a divulgare, a portare la tecnologia, tutto ciò che ruota attorno al mondo Linux, a cercare di sensibilizzare questi ragazzi delle scuole superiori anche per il loro futuro, perché comunque il mercato si sta spostando e sta molto investendo in questo ambito Linux, anche nel settore mobile. Infatti il mio talk che ho parlato è proprio su Android. Anche l'Istituto Tecnico Eustachio Divini di San Severino Marche, in collaborazione con il Camelug di Camerino, ha deciso di partecipare con un convegno realizzato proprio all'interno dell'Istituto, a Linux Day 2013. Ne parliamo con la dirigente scolastica, la professoressa Traversi. Come ogni anno è consuetudile che questo istituto organizzi questa giornata nel rispetto delle attività nazionali. e il Dipartimento di Informatica con i professori e tutti i ragazzi sono presenti per questi vari interventi che si succederanno nella mattinata, dalle 8.30 alle 12, il momento dell'uscita. Sia l'università che le persone, gli esperti presenti, certo danno un tocco di novità ai programmi quotidiani, normali, svolti dai ragazzi. sia come robotica che come discorso generale e innovativo sull'informatica.